Musica Potrebbe arrivare entro fine novembre il nuovo proprietario Cantarelli. È infatti già partito un bando con scadenza lampo per l'acquisto della storica azienda Tessilea Retina con sede a Terontola. Questo è quanto emerge alla fine dell'incontro che si è svolto questa mattina a Roma presso il Ministero per lo Sviluppo Economico. Presenti i funzionari del Mise, il commissario Leonardo Romagnoli, le rappresentanze sindacali ed il sindaco di Cortona Francesca Basanieri. Il commissario Romagnoli ha comunicato di aver deciso di puntare su una selezione ad invito con un bando specifico e tempi stretti. Una settimana per le nuove offerte ed una per i miglioramenti. Procederà ad invitare i soggetti che avevano manifestato interesse a presentare una nuova offerta migliorativa rispetto alle precedenti comunicazioni in tempi estremamente stretti. Nell'arco dei prossimi 15 giorni dovremmo avere una preassegnazione laddove ci fossero effettivamente offerte migliorative, una pubblicazione della preassegnazione con la conseguente possibilità di sopravanzare questa offerta e successivamente la chiusura definitiva laddove non ci fosse nessuna offerta ulteriore. Quindi diciamo nell'arco di una quindicina di giorni la situazione dovrebbe essere più chiara. La nuova gara potrebbe quindi dare la possibilità all'accordata italo-bulgara Men's Fashion Group di riformulare l'offerta, l'unica pervenuta lo scorso 11 settembre non ritenuta congrua dal Ministero. Intanto per domani è prevista un'assemblea con i dipendenti.